Una raccolta differenziata sempre più capillare ed efficiente è quella cui ambisce Aset S.p.A. che ha annunciato un'importante novità per gli utenti di Coglialmetauro. A partire dal 3 luglio, infatti, verrà avviato il ritiro porta a porta di tutti i tipi di rifiuti nell'intero territorio comunale. Un cambio di passo significativo con il quale il conferimento nei cassonetti stradali verrà sostituito dal servizio di ritiro domiciliare. È un importante esperimento perché, ancora una volta, come abbiamo fatto con San Costanzo, l'Aset si adegua alle necessità del territorio. In questo caso sono stati i comuni di Coglialmetauro che ci hanno chiesto di portare avanti la raccolta differenziata in un modo diverso, quindi con il porta a porta. È sempre e comunque una richiesta fatta per cercare di aumentare la percentuale di differenziazione e quindi da luglio andremo a pieno regime. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che intanto la popolazione verrà avvisata con incontri che faremo nelle varie municipalità del comune, che sappiamo benissimo l'aggregazione di tanti comuni precedenti. E quindi nel frattempo provvederemo settimana per settimana a distribuire il kit necessario, perché per fare in modo che si possano ritirare nei propri domicili il materiale, quindi parliamo di vetro, parliamo di carta, parliamo di plastica, parliamo di metallo e vedi scorrendo, c'è bisogno di un apposito kit. Per le attività produttive questi kit verranno recapitati sul luogo di produzione, quindi nelle proprie aziende, nei propri negozi e quant'altro. Invece i privati dovranno recarsi al CRD di calcinelli, calcinelli muniti dal certificato della Tari, quindi della bolletta Tari e di un proprio documento per ritirare questo apposito kit. Il CRD è aperto tutti i giorni, fate attenzione un po', sono aperti al mattino e al pomeriggio, però comunque tutti i giorni, e lì una volta che si provvederà a consegnare tutti questi kit, provvederemo poi da luglio in avanti a portare avanti la raccolta. Gli incontri con la cittadinanza sono già stati definiti? Non sono ancora stati definiti, cioè ci mancano le date e gli orari, però avviseremo praticamente con un congruenticipo tutte le parti. Poi comunque sarà, come abbiamo fatto con il Comune di San Costanzo, ci sarà un periodo, diciamo così, aperto dove ci sarà questo continuo scambio di informazioni, perché ci rendiamo conto che comunque la particolarità della raccolta è un po' diversa, o meglio, si dovrà fare più attenzione agli orari, perché mentre prima si poteva andare in ogni momento a conferire questi rifiuti, seppur muovendosi, in questo caso c'è qualcuno che ti viene a prendere in determinati orari, quindi solo quello.